E' la musica che ancora una volta diventa ponte tra culture e popolazioni. Le note del Mugam, ispirate dalla tradizione artistica Zera, hanno risuonato all'interno dell'aula consigliare Sandro Spagnoli, facendo da sottofondo alla visita all'Aquila e all'emiciclo dell'ambasciatore dell'Azerbaijan, Mahmoud Ahmad Zada. Ospite d'onore del presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio, il rappresentante diplomatico ha particolarmente apprezzato l'opera di ristrutturazione del palazzo, sede dell'Assemblea Legislativa. Al centro del colloquio tra i due, gli scambi commerciali tra i due paesi, con la messa in campo di iniziative di gemellaggio culturale tra l'Abruzzo e l'Azerbaijan. Su proposta di Di Pangrazio, infatti, e d'intesa con il segretario generale dell'istituzione sinfonica abruzzese, Giorgio Paravano, è stata avanzata la possibilità di ospitare giovani musicisti azeri nella nostra regione, all'interno degli spettacoli e della stagione concertistica dell'ISA. Progetto di collaborazione che ha trovato immediato favore dall'ambasciatore e che, nel ringraziare Di Pangrazio, lo ha invitato a visitare presto Baku, capitale della Repubblica dell'Azerbaijan. L'Azerbaijan, quindi la sua storia, la sua geografia, ci ha insegnato che noi, soprattutto, abbiamo una parte molto importante della nostra società, soprattutto questo modello di multiculturalismo, perché l'Azerbaijan è un paese a maggioranza musulmana, una società laica. Il primo popolo nell'Oriente musulmano che ha creato questa Repubblica democratica, però allo stesso tempo ha portato valori occidentali al mondo musulmano. Oggi in Italia abbiamo casi più di 2.000 studenti che studiano in varie università d'Italia, che è sicuramente molto fondamentale anche per il futuro della nostra società.